Allora grazie, grazie Mariangela e buonasera a tutte e tutti voi e mi scuso innanzitutto per non essere lì con voi in presenza, è stata una giornata lunghissima, piena di impegni e non ce l'ho proprio fatta, avevo anche un bambino a casa che non potevo lasciare da solo, quindi insomma una serie di cose per cui devo purtroppo intervenire così a distanza e me ne scuso molto. Allora in realtà i due interventi che mi hanno preceduto, ma anche quello introduttivo di Mariangela hanno già detto moltissime cose, sono stati degli interventi ricchissimi e dal respiro molto ampio, per cui non mi rimane molto da dire per mia fortuna, quindi cerco di essere in questo senso molto breve, parto da alcune sollecitazioni di carattere generale fatte nella bellissima introduzione di l'onore Artesio, in cui si ragionava appunto di rafforzamenti degli esecutivi a partire diciamo dal comune, dalle regioni e per finire ad accenare a quello che è il cosiddetto presidenzialismo o meglio premierato. Ecco, a me pare che questa tendenza alla verticalizzazione del potere, con una concentrazione del potere nell'esecutivo sia una tendenza in realtà che possiamo addirittura considerare globale, cioè una tendenza che si può ravvisare in una forma di governo come la nostra, che è una forma di governo parlamentare, ma si può ravvisare anche nelle forme di governo presidenziali, come per intenderci quella degli Stati Uniti, nella forma di governo semipresidenziale come quella francese, cioè in tutte queste forme si assiste ad un'ulteriore concentrazione di potere nel vertice monocratico dell'esecutivo e ad una, forse potremmo anche dire, ad una svolta in senso autoritario, anche questa trasversale rispetto alle varie forme di governo. Giustamente Eleonora prima parlavi di contrappesi, provavi a immaginare dei contrappesi, questo è l'elemento centrale perché in realtà quando noi ragioniamo di democrazia e di democrazia costituzionale, noi ragioniamo di limitazione del potere, la limitazione del potere si ha appunto anche attraverso la separazione e l'equilibrio dei poteri, quello che ad esempio la riforma in discussione del premierato mette pesantemente in crisi è proprio l'idea dell'equilibrio dei poteri, cioè del mantenimento di contrappesi, nel senso che concentra nella figura del Presidente del Consiglio a discapito della figura del Presidente della Repubblica e a discapito di un Parlamento che è già sufficientemente esautorato, diciamo che acquisce quello che è in realtà un processo, un premierato di fatto che è già in atto e in qualche modo lo formalizza e porta ulteriormente avanti il processo, quindi sono assolutamente d'accordo con questo, sia con la tua lettura, come tu lo ponevi forse come punto interrogativo, siamo di fronte ad un'involuzione democratica, io direi senza dubbio di sì, anzi forse lo metterei in termini anche più pesanti, cioè siamo di fronte a quella che è una deriva in senso autoritario nel nostro Paese, ma ripeto anche altrove e a questo elemento aggiungerei quello che è la chiusura degli spazi politici, che sono chiusura degli spazi politici rappresentativi da un lato, quindi la crisi della rappresentanza, la crisi dei partiti, che sono partiti sempre più leggeri, liquidi eccetera, la crisi della politica, ma anche la chiusura a cui assistiamo, che vediamo in questi ultimi tempi in maniera molto evidente, della libertà ad esempio di manifestazione del pensiero, del diritto di protesta, cioè tutto quello che è anche la repressione del dissenso. Tutto questo insieme, concentrazione del potere, crisi della rappresentanza, repressione del dissenso, ci induce a ragionare proprio di una svolta in questo senso, in senso autoritario. È una svolta che va contro quella che è invece il nucleo centrale della democrazia, che è la partecipazione. Ritorno un attimo alla nostra autonomia, però, autonomia locale, che era il perno del discorso, appunto da cui siamo partiti. Di autonomia locale si occupa, la chiamava prima Eleonora, il testo unico delle leggi sugli ordinamenti locali, che è un decreto legislativo del 2000, che dice che il comune e l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove il sviluppo. E quindi ci dice che spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, in particolare nei servizi alla persona e alla comunità. Specifico questo perché? Perché questo richiama il senso di quella che è l'autonomia locale come intesa dalla Costituzione. La Costituzione ragiona di autonomia locale nell'articolo 5, poi il discorso viene ripreso nell'articolo 118, che è l'articolo che tratta del principio di sostenibilità in particolar modo, ma l'articolo 5 inserisce l'autonomia locale in quelli che sono i principi fondamentali della Costituzione. E questo significa sottolineare la connessione tra l'autonomia intesa come locale e principi come la democrazia, la sovranità popolare, l'uguaglianza, la solidarietà. Cioè l'autonomia è innervata, impregnata di questi principi. È un'autonomia, quella costituzionale, che esprime un'idea precisa e questo discorso vale, e lo specifico, per l'autonomia comunale, ma in generale quando ragioniamo di autonomia, perché noi oggi il discorso, dopo farò un cenno, è all'autonomia come differenziata, ma noi dobbiamo partire da quello che è il senso costituzionale dell'autonomia. L'autonomia differenziata per come si va prospettando, invece è un'autonomia che va in senso contrario alla Costituzione e paradossalmente, anche se è contemplata poi da una norma della Costituzione che è l'articolo 116, una autonomia incostituzionale. Il senso dell'autonomia costituzionale è quello di esprimere un'idea di territorio come luogo vissuto, prima Paolo ricordava il legame sociale, quindi il senso dell'autonomia costituzionale è proprio questo, cioè ricordare il senso di una comunità, di un luogo vissuto, di un luogo di riconoscimento di quella che è la pari dignità sociale, di esercizio dei diritti, di soddisfazione dei bisogni e attraverso quest'idea di autonomia passa anche un'idea di partecipazione, di partecipazione effettiva dei cittadini a partire appunto da questo livello territoriale che è più vicino anche ai cittadini. È un'idea anche questa di sovranità come plurale, come appartenente al popolo visto proprio anche come prossimità, è un modo di assicurare al meglio la concretizzazione dei diritti proprio attraverso la vicinanza. In armonia con quello però che è il principio di eguaglianza sostanziale, cioè concretizzare i diritti meglio perché siamo su un territorio diciamo più vicino ai cittadini non vuol dire che dobbiamo concretizzare i diritti in maniera diseguale su tutto il territorio nazionale, sono due cose ben diverse. Ecco, questo è in linea ad esempio con quanto si legge anche nella Carta europea dell'autonomia locale del 1985 dove si dice, vi leggo questo passaggio, per autonomia locale si intende il diritto e la capacità effettiva per le collettività locali di regolamentare ed amministrare a favore della popolazione una parte importante di affari pubblici. Ecco, a favore della popolazione, io vorrei sottolineare questo, lo diceva anche Paolo anche in chiusura del suo intervento, c'è la centralità della persona, quindi la giustizia sociale, della giustizia mentale che hanno al centro la persona, l'ambiente e non il profitto. Ecco, questo è un po' il senso dell'autonomia. Quando si ragiona di autonomia differenziata noi ci poniamo in un'altra prospettiva, perché l'autonomia differenziata in realtà è una, per come si sta delineando adesso con il disegno di legge Calderoli o anche con quelle che erano le preintese che erano state stipulate nel 2018 di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, è un'autonomia che si fa veicolo in realtà di dismissione di quello che è lo Stato sociale e di un ulteriore passo nel processo di privatizzazione e di dismissione nella garanzia dei diritti sociali. Questo avviene anche attraverso un meccanismo che dovrebbe essere di tutela, ne avrete sentito parlare, quelli che sono i cosiddetti LEF, cioè i livelli essenziali delle prestazioni che dovrebbero essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Ma perché garantire il livello essenziale delle prestazioni e non garantire la tutela del diritto? Cioè a me pare che questo sia uno strumento per intaccare quella che è la tutela di un diritto. oltretutto, adesso non mi addento in questi ragionamenti, non vi voglio annoiare, ma l'autonomia differenziata si collega a quella che è la spesa storica o all'idea del residuo fiscale, per cui sostanzialmente le regioni più ricche continueranno ad essere sempre più ricche, cioè è una diseguaglianza che tende a riprodurre se stessa, ad acuire quelle che sono le diseguaglianze esistenti. In questo senso, contraria all'idea di un'uguaglianza della Costituzione che è l'opposto, cioè occorre dare di più a quei territori, ad esempio, che sono in situazioni di svantaggio. Questo lo prevede anche la Costituzione, ad esempio, all'articolo 119 dove parla di perequazione proprio tra i territori. Ecco, questa autonomia differenziata, per restare però al discorso dei comuni, è un'autonomia che introduce un processo di centralizzazione a livello regionale, cioè introduce una verticalizzazione ulteriore, in particolar modo nei vertici degli esecutivi regionali, in quelli che nella vulgata vengono chiamati sbagliando governatori, ma che in realtà riflette, è uno sbaglio dal punto di vista giuridico, ma riflette quello che è lo Stato di fatto. Questo lo vediamo già nel processo di autonomia differenziata. Il DDL Carleroli prevede un processo dove centrali nel determinare quello che è il contenuto delle intese, cioè questo processo di riconoscimento di ulteriori competenze alle regioni, centrale il ruolo del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio, cioè una verticalizzazione del potere. Riguardo agli enti locali si dice che gli enti locali devono essere sentiti, hanno un parere consultivo, in buona compagnia peraltro, perché anche il Parlamento sostanzialmente ha un ruolo consultivo, viene sentito, può esprimere degli atti di indirizzo che però possono essere non considerati dal governo, che ha solo un obbligo di motivazione. Quindi l'autonomia differenziata non porta un maggior riconoscimento dall'autonomia locale, cioè dei comuni, che deve essere intesa nel senso costituzionale che dicevo prima, ma tende invece a realizzare questo centralismo a base regionale. Non a caso l'Anci, cioè l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ha espresso una forte contrarietà trasversale tra comuni governati dal centro-sinistra, comuni governati dalla destra, eccetera, perché proprio tende questo processo a penalizzare ulteriormente, a comprimere ulteriormente quelle che sono le competenze dei comuni. Cioè Eleonora prima parlava di un contrappeso possibile nel decentramento amministrativo. Ecco, con l'autonomia differenziata in realtà si realizza sì questo decentramento regionale, ma non un decentramento amministrativo nei confronti dell'autonomia comunale, anzi probabilmente si realizza un'ulteriore concentrazione di potere in particolar modo appunto nei vertici degli esecutivi regionali. Ho qui sul computer, anche volevo leggere qualche passaggio, proprio la presa di posizione ufficiale del Lanci, che sottolinea come il conferimento appunto di queste forme e condizioni particolari di autonomia dovrebbe invece porsi in un contesto, dice, di indefettibile salvaguardia dei fondamentali principi costituzionali di solidarietà, di unità giuridica ed economica del Paese in un'ottica di massimo decentramento e rafforzato coordinamento. Ma questo appunto è un auspicio, così non è, per cui poi questo documento diciamo è molto duro nel criticare proprio questo processo di autonomia differenziata da questo punto di vista. Questo diciamo è lo stato dell'arte, che non è un bello stato dell'arte e il futuro che si prospetta appunto è un processo di ulteriore concentrazione del potere, di involuzione autoritaria, è quello che io chiamo quasi la deriva verso una nuova forma di Stato, una forma di neoliberismo autoritario, perché l'unica cosa che non viene messa in discussione è per sintetizzare il presupposto dell'agenda Draghi, cioè l'agenda neoliberista, la messa diciamo al centro del profitto e l'elemento anzi che viene difeso diciamo da questa involuzione di tipo autoritario. Del resto consideriamo quello che osservava la JP Morgan nel 2013, quando si lamentava della debolezza degli esecutivi, di un eccessivo riconoscimento del diritto di protesta, di troppi diritti dei lavoratori, ma ancora prima quando la trilaterale ad esempio lamentava l'eccesso di democrazia, cioè c'è questa saldatura tra neoliberismo e autoritarismo che ha coinvolto diciamo e ha fagocitato anche tutto il discorso dell'acqua come bene comune, Paolo prima lo ricordava molto bene, tutta la storia dal referendum, il disegno di legge sulla concorrenza, la quotazione in borsa, cioè tutto diciamo così la predazione dell'acqua da parte del profitto, l'acqua considerata come merce. Ecco voglio invece solo ricordare che esiste un'altra prospettiva, esiste un'altra prospettiva possibile. Rodotà ad esempio aveva elaborato questa idea di beni comuni, di beni comuni pubblici, le aveva definite come delle cose, vi leggo la definizione, che esprimono utilità funzionale all'esercizio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona. Questi beni comuni sono concepiti come beni che appartengono a tutti, cioè sono insieme di tutti e di ciascuno, cioè sono per così dire a titolarità diffusa, sono amministrati muovendo dal principio di solidarietà, sono a fruizione collettiva, possiedono una utilità generale, cioè sono riconosciuti a una pluralità di persone considerate anche in uno spazio temporale aperto, cioè nel presente e anche nel futuro. Sono considerati come in questo senso come non mercificabili, cioè evocano quello che è un profilo sociale ed economico anche della democrazia. Ecco questo si connette anche al profilo anche politico della democrazia, perché qui veniamo a parlare di quella che è la gestione poi anche di questi beni, lo accennava prima molto bene Paolo, quindi non mi ripeto, ma in questo senso noi possiamo trovare nell'idea del bene comune proprio anche uno strumento di rivitalizzazione della democrazia e in particolar modo di quello che è il nucleo della democrazia, cioè la partecipazione, nell'idea proprio di una gestione partecipata, la richiamava prima anche Mariangela, una gestione partecipata dal basso, cioè che restituisca quella che è l'idea di titolarità diffusa proprio del bene comune, che implica un'idea di democrazia come qualcosa di sostanziale, quindi di partecipazione effettiva e nello stesso tempo lega e tiene insieme i tre profili della democrazia, come democrazia sociale, politica ed economica, perché sono profili inscindibili, in questo senso ci ricordano che non c'è un'emancipazione politica senza che ci sia un'emancipazione sociale ed economica, cioè i tre profili vanno tenuti insieme, il piano è un piano concreto, in questo senso materiale, non un piano astratto. Io mi fermerei qui perché penso di aver parlato già anche troppo. Grazie 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 Grazie